buongiorno ecco l'unità mobile che abbiamo acquistato e che in parte rifonderemo col contributo che avete dato con il vostro 5x1000 è un camper di medie dimensioni rispetto all'altro che avevamo in uso ovviamente è più funzionale e adesso vi faccio vedere l'interno questa è l'entrata si sale da qua le persone che noi assisteremo o incontreremo le generalmente le incontriamo attraverso questo questo finestrino che è stato adattato un po più piccolo è stato allargato e ovviamente poi se le persone ha bisogno di cure specifiche magari una medicazione quant'altro allora vengono possono accedere all'interno che adesso vi mostro ecco questo è l'interno c'è questa parte che è stata leggermente modificata rispetto all'originale proprio per essere un po più funzionale le nostre esigenze c'è questo tavolo che poi si piega sparisce e quant'altro quindi poi noi generalmente operiamo su questo lato da quella parte c'è il frigo e il freezer a volte abbiamo la necessità di stoccare dei farmaci che devono essere ovviamente tenuti a temperatura adeguata quindi l'utilizzo del frigo sarà esclusivamente per dei farmaci detto questo questo è lo spazio di operatività questo tavolo si toglie dei meccanismi quindi quando l'infermiere o la dottoressa che abbiamo in questo periodo deve fare delle medicazioni o fare una visita ovviamente ha uno spazio molto più adeguato rispetto al camper che avevamo in utilizzo fino all'altro giorno questa allora è la nuova unità mobile che abbiamo acquistato e che il vostro 5x1000 ci aiuterà a sostenere grazie a tutti quelli che l'hanno fatto ricordo che perché non l'ha ancora fatto c'è ancora tempo qualora qualcuno volesse aggiungersi ai tanti e parecchi che l'hanno fatto se avete bisogno di ulteriori informazioni su tutto quello che è unità mobile i servizi e quant'altro il nostro sito è www.bessimo.it e grazie ancora